Salve a tutti ragazzi, sono Chiara della Tana di Mr. X e adesso commenterò con voi questa mini serie, perché non è tanto lungo come gioco, di The Dark Side of Red Reading Good, ovvero il lato oscuro di Cappuccetto Rosso. Praticamente l'anticipo della storia sarebbe la protagonista e la nostra giovane Cappuccetto Rosso, e su richiesta di sua madre gli chiede di andare a trovare la nonna malata. Che tipo di fine orribile gli aspetterà? E noi dovremo andare a scoprire la fine. Bene, allora, iniziamo. Piccola Cappuccetto Rosso, ascolta bene. La nonna è caduta in malattia. Sta male. Vai a farle visita. Ma fai attenzione al lupo. Non uscire fuori strada. Prosegui sempre la strada, praticamente. Prendendo questo consiglio, sbloccheremo la nostra prima bedend, dove non potremo vedere la sorte che capiterà alla nostra protagonista. Vabbè, andare sempre dritto per la casa della nonna e poi dall'altra parte per il lupo. Ah, da quanto ho capito, ci sono dei finali che sono collegati e uno no. Allora, questo qua, questo coniglietto, serve per salvare. Mi scuso per i problemi di grafica, non so come mai c'è questo problema qui di video, ma vabbè. Allora, intanto spero che non intacchi molto. E andiamo avanti. Tattata nella foresta. Proseguiamo sempre dritto, come ci ha detto la mamma. Ascoltiamo sempre la mamma! Ok, dai. Infatti ho detto, ma sì, facciamo come dice la storia, andiamo per la nonna e di sicuro capiterà qualcosa. Infatti ho proprio preso la prima bedend e va bene così. Ma infatti sì, deve sbloccare prima la bedend e poi le altre cinque true end, che come true end sono abbastanza violente, ve lo dico. È un gioco abbastanza ricco di contenuti molto 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 pesanti, tra cui il cannibalismo, l'abuso sessuale e anche il commercio di schiavi. Poi basta, poi vedrete. Comunque, vi dico se siete in dubbio, se vederlo, cioè se siete abbastanza suscettibili, non lo guardate. Ok. Questa qua è la casa della nonnina. Molto carina, eh. Andiamo. Ah, i designi li ha fatti tutti sta persona, Charon. E mi piace come sto personaggio sia molto simile a Baby Bonnie Hood di Vampire Saviore. Allora, oh piccola capocetto rosso, sei venuta a vedermi? Ok. Ovvio. Infatti ero così, ma Paolo, ma secondo te la nonnina è cattiva o buona? Ma no, sarà il lupo travestito da nonnina. E poi vi farò vedere in una delle bad end che ci sarà. Oh, sono così felice. Allora, bad end, good girl, brava ragazza. Benissimo. Questa è il primo... La prima bad end e l'unica che abbiamo sbloccato. Spero che questa serie vi possa piacere. E se avete domande chiedetemi pure. Tranquillamente. Sono abbastanza contenta di aver realizzato sto gioco perché è stato tradotto in inglese in questo periodo. Quindi ho detto, lo faccio, dai, male che vado, visto che è corto, non pesava chissà cosa. Ho detto, facciamolo tanto. Non è che mi costa niente. Infatti in una serata ho finito tutto il gioco. E lo caricherò piano, piano, solo per voi. E sono contenta di mostrarvi questa serie. E spero che vi possa anche appassionare. E' piccola, eh, non sarà mai lunga quanto Madfather, Eib o The Witch House. Però è carina, dai. Mi piacciono molto i disegni di Charon. E boh, vi lascio poi tutte le informazioni del gioco. E grazie anche per il sostegno che ci date. E se vi è piaciuto questo video mettete un bellissimo pollice in su. E se non vi è piaciuto un pollice in giù. Basta che ci date delle votazioni. Per me è una cosa, secondo me, corretta da dare. Quindi se me le date mi fate un favore. Poi vedremo tutte le altre true end. E vi spiegherò un po' cosa succede e cosa non succede. Comunque ragazzi io vi saluto. Ci sentiamo alla prossima. E grazie per aver visto il video. Ciao ciao!